Otto colpi tra tentati e messi a segno solamente nel fine settimana. Cresce così l'allarme furti a Sansepolcro. Nel corso dello scorso weekend i ladri sono infatti entrati in azione con cinque tentativi andati a vuoto e tre invece consumati, portando via alcuni gioielli in oro e denaro contante, un bottino di circa 2000 euro. Nel mirino dei malviventi la zona, compresa tra il centro storico e la bassa collina, in pratica dove insiste l'ospedale della Valtiberina. Sono già diverse le denunce raccolte dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro che stanno portando avanti le indagini. I militari stanno anche cercando di capire se vi possa essere un collegamento con i recenti furti che si sono consumati in Baldarno e se quindi possa essersi trattato della stessa banda, simile il modus operandi, appartamenti quasi sempre vuoti, la tecnica utilizzata invece per entrare all'interno quella del classico foro accanto alla maniglia. In Valtiberina, sul fronte sicurezza, si era già instaurato il rapporto più stretto tra tutte le forze dell'ordine che operano in sinergia, specialmente nel fine settimana e negli orari notturni, a seguito dell'incontro in prefettura ad Arezzo.